Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un altro programma che funziona solo nel terminale e che può essere una valida alternativa a un programma con interfaccia grafica o con interfaccia web insomma. In questo caso stiamo parlando di News Boiter spero si pronunci così che funge da aggregatore lettore di feed rss nei terminali ovvero da lettore di notizie ecco dei vari blog e siti che permettono con questi formati rss dei feed di presentare gli articoli giornalieri insomma di tutte le notizie del mondo. degli argomenti che ci interessano di aggregarli appunto in una singola interfaccia e poterci rileggere comodamente ecco quindi presento appunto in questo video questo programma chiamato News Boiter che funge appunto da questo aggregatore di notizie lettore di feed rss può essere paragonato giusto per dar subito l'idea al defunto ormai defunto google reader o al suo successore penso di poter dire di maggior successo che si chiama feedly feedly come google reader funziona nell'interfaccia con un'interfaccia web non è un programma che installate direttamente sul vostro pc ma avete il vostro indirizzo internet e vi gestite vi organizzate le vostre sorgenti di notizie che è aggregate con feedly e ce ne sono altri naturalmente parlo di feedly perché lo uso io stesso e usa così come usavo google reader e appunto questo programma che presento in questo video ha lo stesso scopo insomma con le stesse funzionalità quindi News Boiter è dunque appunto un pratico gestore di siti praticamente in un raccoglitore di indirizzi internet che offrono articoli di ogni genere ovviamente ognuno farà la raccolta dei suoi siti preferiti che gli parlano delle notizie che più gli interessano giorno per giorno quindi si possono leggere queste informazioni come sempre in questa serie di video di programmi alternativi da terminale parlo di programmi ottimi o buoni o discreti con tutti i loro limiti ma anche con tutti i loro pregi come sempre di leggerezza perché non si trascinano dietro tutta l'interfaccia grafica insomma funzionando solo nel terminale e il nome, il nome News Boiter sta per news ovvio le notizie, le novità e Boiter che è un termine che deriva dal tedesco che significa raccoglitore, cacciatore ecco da un po' l'idea no? raccoglitore di notizie, cacciatore di notizie in rete e quindi messo assieme questi due termini News Boiter sta ad indicare proprio lo scopo di questo programma quindi che è proprio un aggregatore di notizie, cacciatore, raccoglitore di notizie ecco spiegato il nome che può sembrare suonare un po' strano a noi in italiano comunque e questa volta è una mescolanza fra inglese e tedesco credo perché se ben ricordo si può vedere poi sul sito del progetto che siano tedeschi o austrieci gli attuali sviluppatori del programma o quelli che hanno iniziato questo progetto ecco perché c'è anche un termine tedesco nel nome comunque mi sembra di ricordare, comunque si può leggere poi sul riferimento in rete che lascio qua come sempre, per installarlo quindi come facciamo a usarlo, anche questo è un programma che va installato è presente nei repository ufficiali di Ubuntu quindi basta aprire Ubuntu Software Center e cercare News Boiter e installarlo oppure da terminale come sempre con questo comando direttamente niente repository aggiuntivi ma direttamente il comando sudo apt-get install News Boiter e siamo pronti a partire come con sua etudine di questi video qui faccio una panoramica delle funzionalità di questo programma e come sempre se vi interessa particolarmente non potendo in un video mostrare proprio tutto tutto avete sempre la possibilità di andare in dettaglio e analizzare tutte le specifiche tutte le funzionalità di questo programma con l'immancabile manuale man News Boiter con il suo help, News Boiter-H e anche con le notizie e informazioni manuali sul sito direttamente del progetto come sempre, quindi per approfondire, aspetta voi io vi do così lo spunto, la panoramica, l'infarinatura su questi programmi primo avvio quindi, eh, primo avvio News Boiter niente di difficile, si avvia News Boiter Enter e voilà al primo avvio cosa è successo? è successo che nel nostro file system, lui nella nostra home si è creato la cartella di lavoro sua, nascosta, eh nella nostra home, home Nicola, punto News Boiter eccola qua, home, nella mia home, eh, qua, nella mia home sono posizionato con la visualizzazione anche di cartelle file nascosti ed ecco qua News Boiter dentro News Boiter c'è un file di database dove lui si archivierà poi le sue informazioni e nient'altro, eh in questo momento c'è solo il suo database che userà e in effetti ci dà un errore al primo avvio ma è previsto perché non c'è nessun URL ovvero indirizzo internet configurato quindi essendo, come dire, vergine l'installazione di News Boiter non sa cosa presentarci come notizie perché non ha niente, nessuna sorgente dati nessuna sorgente fonte web di informazioni come facciamo quindi viene visualizzato un errore, ecco qua, previsto, eh come facciamo quindi per far partire senza errore News Boiter basta dargli almeno una fonte di informazioni dove gli si danno le fonti di informazioni quindi gli indirizzi internet necessari manualmente si può aprire questo file nella cartella News Boiter che adesso non c'è ancora quindi addirittura proprio nuovo non c'è ancora comunque ci sarà ci deve essere un file chiamato URLS quindi gli indirizzi internet infatti vedete che quando lui è partito News Boiter dice sto caricando gli indirizzi internet da home.nicola.newsboiter.urls e dice fatto ma naturalmente non l'ha trovato ecco perché dà errore e quindi noi dobbiamo, si prega di inserire lo dice anche il programma stesso si prega di inserire nel file home.nicola.newsboiter.urls gli indirizzi dei feed necessari da importare e News Boiter utilizza per nostra fortuna lo standard OPML che è lo standard per questi programmi quindi sia Google Reader a suo tempo sia Feedly sia tutti gli altri programmi che gestiscono che sono aggregatori di notizie come questo usano questo standard OPML per esportare o importare da un programma all'altro queste raccolte di sorgenti di notizie quindi da una parte possiamo mettere i nostri indirizzi internet delle notizie ad uno ad uno uno per riga come dico qui uno per riga creando questo file poche parole quindi volendo fare manualmente la cosa noi faremo un nuovo documento lo chiameremmo urls come dice lì lo apriremo e qui riga dopo riga inseriremmo i vari indirizzi internet degli aggregatori di notizie che noi vogliamo inserire per farli poi gestire da News Boiter non volendolo fare manualmente adesso per questo video quindi diciamo che il principio è semplicissimo si crea il file e gli si mette uno per riga indirizzo http slash bla 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 usando io già Feedly c'è la possibilità appunto usando sia News Boiter sia Feedly lo stesso standard OPML di scambio dati di questo tipo io posso esportare o importare queste fonti dati quindi io l'ho fatto dal mio Feedly ho fatto un'esportazione con l'interfaccia web in file OPML vedete delle mie fonti che utilizzo tutti i giorni di notizie tecniche varie che mi interessano e adesso lo importo in News Boiter per non dover far manualmente il lavoro di compilare questo file manualmente quindi cosa facciamo invece di sfruttare la manualità sfruttiamo per così dire l'automatismo di importare le fonti che io ho già pronto quindi importiamo con l'opzione meno i il mio file Feedly.pml quindi sono già posizionato nella scrivania in effetti ecco qua il mio Feedly.pml quindi uso questo comando per importare le mie sorgenti dati per non doverlo fare manualmente News Boiter ops meno i quindi importa e Feedly già sono nella cartella giusta faccio Enter e vedete che lui dice in un nanosecondo in un attimo dice importazione di Feedly finita adesso News Boiter è caricato fornito delle stesse sorgenti di notizie che io uso quotidianamente con Feedly ecco per dire e vedete che il file urls adesso non è più vuoto ma guardate un po' uno per riga uno per riga li vedete tutti i miei attuali indirizzi internet dei raccoglitori di Feedly vedete qui che spesso si chiamano Feedly o RSS RSS Feedly questi sono tutti i formati degli aggregatori di notizie vedete che in tutti questi siti sono quelle che io uso in Feedly e li ho importati nel file che News Boiter ha bisogno urls quindi vedete che invece di scriverli manualmente o riportarli manualmente li ho già importati in un colpo solo e manualmente sarebbe la stessa cosa ma più lungo ovviamente viceversa già che siamo in questo ambito di import e export viceversa si possono anche esportare le fonti da News Boiter con il comando meno e export quindi volessi esportarli facciamolo pure giusto per mostrare come funziona meno e per esportare e questo stamperebbe come dire nel terminale a video tutte le mie fonti io devio l'output di questo comando sul file che voglio usare quindi come lì come nella mia scaletta chiamo pure News Boiter punto opml perché lo standard è quello quindi faccio così adesso nella mia scrivania ho News Boiter opml se lo apro con gedit vedete vedete che mi ha creato nello standard opml mi ha riportato tutte le mie sorgenti dati pronti per essere importati in feedly o in qualsiasi altro programma di gestione di notizie di aggregatore come Life Area o Life Rea o qualcosa uno dei più famosi diciamo programmi da installare sul pc che fanno questo lavoro per GNOME per esempio potrei importarli lì perché anche quello sfrutta questo standard opml questo comunque era solo per mostrarvi in un senso e nell'altro importare e esportare le fonti di notizie a questo punto torniamo ho lasciato indietro qualcosa la scaletta no quindi passiamo all'ultima parte della scaletta che consiste nel usare News Boiter adesso che ha le fonti di notizie finalmente possiamo usarlo come si fa a navigare riporto qui rapidamente i comandi più comuni adesso li vediamo sono anche indicati nell'interfaccia e quindi finalmente posso far partire News Boiter senza opzioni e voilà che non dà più l'errore non dà più l'errore e vedete qui vedete qui tutte le mie fonti riportate ad una ad una ok voilà quindi con le frecce navigare su e giù nell'elenco delle fonti e delle notizie con le frecce della tastiera mi sposto un attimo in su per non nascondere qui in basso la leggenda qui in basso dei comandi quindi le frecce della tastiera per navigare su e giù quindi io sono qui vado con la mia freccetta uno e su e giù o con la paginazione su e giù vado su e giù da tutte le fonti di notizie il tasto R come dice qua ecco qua ricarica qui dice carica barra ricarica una fonte di notizie selezionata quindi vedete qui qua vedete qua c'è 0 di 0 vedete che tutte le fonti di notizie appena aperto Newsboys sono 0 di 0 perché lui non va ad accedere a tutti questi indirizzi internet per caricarsi le notizie in un colpo solo ma lascia scegliere a noi naturalmente questo anche per questione di leggerezza di traffico di rete quindi sono tutti a 0 a 0 adesso nessuno di queste fonti di notizie ci presenta nessun articolo perché sono 0 0 caricati ecco se io mi posizionassi in questo make tech easier faccio enter per entrare perché enter è per aprire una fonte di notizie ecco enter apri quindi faccio enter lui mi dice errore il feed non contiene voce perché non l'ho ancora caricato ed ecco perché entra in gioco il comando R adesso faccio R su quella fonte di notizie qui selezionata schiaccio R e vedete che magicamente mi appare una N qui per dirmi ci sono dei nuovi articoli per questa fonte di notizie e sono tutti nuovi in questo momento 20 di 20 perché non ho letto neanche uno però vedete che questa fonte di notizie è sparito l'indirizzo URL è apparso il nome e mi dice ci sono 20 articoli a disposizione adesso si che se faccio enter mi entra ed eccole qua i miei 20 articoli eccoli qua l'intestazione dice newsboyter vabbè articoli nel feed make tech easier 20 non letti di 20 totali perfetto è molto semplice da usare come interfaccia molto intuitiva anche questa come faccio a leggerli enter sempre per aprire quindi non solo le sorgenti di notizie ma le notizie stesse quindi enter il q è per uscire per tornare all'elenco quindi q torno all'elenco q uscirei da tutto il programma ma non voglio faccio enter per rientrare enter apro una notizia per esempio la seconda notizia e qui c'è il testo ovviamente essendo un programma da interfaccia caratteri da terminale non ho le immagini non ho tutta la grafica delle notizie come siamo abituati con feedly google reader live rea e altri programmi che ci presentano proprio le pagine internet complete qui vedete se c'è un'immagine c'è scritto che c'è un'immagine ma non la vedo vedo però il testo della notizia che in fin dei conti molto spesso è poi quello che mi interessa con le frecce su e giù posso scorrere la notizia vedete con tutti i riferimenti tutto quanto quello che è tutta la pagina praticamente internet a parte la grafica la pagina internet della notizia del sito a parte la grafica c'è posso leggere quello che mi interessa qui in basso appunto c'è sempre tutti i tasti funzioni che servono qui dico n per passare direttamente alla prossima notizia in effetti n dice prossimo articolo non letto posso anche premere la O per aprire questa stessa notizia nel browser predefinito quindi se premo O mi aprirebbe questa stessa notizia nel browser non lo so se ci mette tanto poco nella macchina virtuale io ci provo vediamo se lo fa impossibile trovare non lo so non l'ho mai provato lo provo adesso così ma non so se lo apre o non lo apre vediamo cosa fa qualcosa sta aprendo un po' browser predefinito questa macchina virtuale è Firefox non Chromium vabbè poi uguale vediamo se funziona come si deve eh sì eccolo qua quindi in sé funziona è uscito da News Boiter quindi lo abbandona quanto vedo adesso non so se qua cosa devo fare ah no ctrl c e ritorna dentro perfetto però mi chiude anche il browser eh questo non l'avevo provato prima di registrare il video quindi se premete O per aprire nel browser lasciate il terminale com'è leggetevi la notizia nel browser poi fate ctrl c per tornare al News Boiter però questo vi chiude anche vedete la finestra del browser quindi sappiate che finché volete tenere aperto il browser lasciate stare al terminale poi ctrl c e tornate il controllo al News Boiter eccolo qua e n appunto se premete n passiamo al prossimo articolo non letto che era quello seguente eccetera eccetera poi se vogliamo cercare delle parole fra le notizie usiamo la barra la slash qui la barra e diciamo cosa vogliamo cercare è molto pratico anche che non distingue maiuscolo e minuscolo quindi bah che ne so se voglio cercare sharing vediamo un po' faccio vedete ho schiacciato la slash la barra e lui mi propone qui in basso ricerca al campo ricerca io cerco sharing faccio enter e vedete che tutte le parole sharing di questo articolo vengono evidenziate posso cercare quindi anche in tutto l'articolo dove si parla della parola sharing con la Q ho detto ritorno all'elenco degli articoli vedete che i due che ho letto sono diventati bianchi e gli altri sono quelli non letti quelli in violetto un po' meno evidenti quelli in evidenza sono quelli che ho già letto o già aperto sopra la statistica è cambiata 18 non letti su 20 totali perché 2 li ho aperti li ho letti lui li considera come letti ecco non so se la ricerca funziona anche qui fammi vedere sì perfetto quindi la ricerca funziona anche a monte non solo all'interno del singolo articolo ma vedete che io ho cercato sharing e lui mi dice c'è questo articolo che parla di sharing vedete è lo stesso di prima altri articoli quanto pare non contengono sharing quindi faccio q per uscire dalla ricerca vediamo una parola una parola che ne so windows ecco mettiamo che io voglio cercare windows faccio qui nell'elenco degli articoli io cerco windows e qui ci sono già più articoli fra i quali 4 non letti che a quanto pare contengono da qualche parte la parola windows vediamo un po' se è vero windows due volte le vedete lì evidenziati vediamo un po' il primo articolo qui vedete windows vedete quello in giallino quindi lui cerca anche fra gli articoli letti o non letti lui cerca vedete che c'è almeno una volta windows posso cercare proprio globalmente anche la parola che mi interessa in mezzo agli articoli ecco questo per esempio è una funzione interessante che io in feedly non avendo pagato per un account avanzato a pagamento non posso fare delle ricerche di questo tipo in feedly ma in newsboyter sì ecco per esempio vedete meraviglie dell'open source dei programmi che sembrano così semplici nel terminale ma in realtà sono molto potenti comunque avete visto anche la ricerca la ricerca a tutti i livelli sia nel singolo articolo che nel gruppo di articoli molto interessante questa ricerca con la barra con la slash ecco con questo ho in fin dei conti già terminato la presentazione la panoramica di newsboyter perché è molto semplice c'è scritto in basso cosa si può fare avete visto che si può addirittura aprire ogni articolo nel browser predefinito se ovviamente state usando un'interfaccia grafica del vostro sistema ma se siete in un'interfaccia completamente a caratteri solo in un terminale ovviamente non vi è possibile aprire in un browser grafico quindi tanto vale che leggete leggiate gli articoli nel nella vostra nel vostro terminale così come li vediamo adesso quindi molto semplice tutto questo si legge quindi si seleziona la sorgente dati che ci interessa di notizie ci interessa R per caricarla come ho appena fatto qui ci dà il totale degli articoli qui possiamo sceglierci gli articoli che vogliamo e avanti così possiamo fare le nostre ricerche nel singolo articolo eh possiamo fare le ricerche a livello di gruppo di articoli molto bene un paio di volte escape si rinuncia possiamo anche leggerli di fila gli articoli e tutto insomma avete visto come funziona il newsboyter potete è molto semplice potete poi approfondire come volete se veramente vi interessa questo programma che ha delle caratteristiche interessanti a costo zero diciamo Q si esce e voilà nel nella sua cartella lui si tiene gli articoli letti la storia degli articoli letti le sorgenti dati e quindi nella sua cartella nascosta nella nostra home e voilà con questo vi lascerò poi sempre il riferimento in rete e con questo ho concluso la presentazione di questo ennesimo programma da terminale voilà con questo vi lascio vi saluto e vi attendo alla prossima ciao ciao